Musica Ad oltre 40 anni dagli studi del professor Luigi Di Bella, sabato 7 dicembre 2019, presso il Royal Hotel Carlton di Bologna, si è svolto un importante convegno dal titolo Concetti di multiterapia biologica nella prevenzione e terapia dei tumori. A presiedere l'incontro, che ha visto come pubblico, tra gli altri, una folta a platea di medici, il dottor Giuseppe Di Bella, direttore scientifico del convegno. Il meeting è stata l'occasione per fare il punto della situazione su una serie di ricerche sperimentali e studi clinici e retrospettivi che documentano e confermano le basi scientifiche e riscontri clinici del metodo di Bella. L'obiettivo principale della bioterapia oncologica, secondo il metodo di Bella, è superare l'elevata tossicità e la bassa efficacia delle attuali terapie mediche per il cancro. La bioterapia valorizza molecole biologiche non tossiche, di cui sono documentate le proprietà antitumorali interattive, melatonina, retinoidi, vitamine E e D3. Questo convegno è un convegno davvero molto importante perché consente di fare un po' il punto della situazione su quella che è la ricerca del metodo di Bella e soprattutto su quelli che sono i nuovi orizzonti. Sì, gli orizzonti in questo momento sono abbastanza rosei, gli sviluppi ci sono, ci sono collaborazioni importanti, il professor Venturi, il professor Neri, altri colleghi, la dottoressa Ferreri stanno dando un aiuto ma stanno sviluppando delle ricerche nel senso della terapia biologica dei tumori. Come ho detto durante il congresso, il termine è stato coniato da mio padre, dal professor di Bella oltre 40 anni fa e mi sintetizzano il concetto di una terapia che possa dare effetti senza creare tossicità, che abbia dei riscontri oggettivi e abbia delle risposte cliniche e sia basata sulle banche dati medico-scientifiche. I risultati presentati sono degni di interesse perché i risultati più brillanti che abbiamo ottenuto recentemente sono stati presentati al congresso, sono casi clinici di tumori cerebrali anaplastici che hanno una prognosi quasi costantemente in fausta e in cui applicando questi concetti di terapia si sono ottenuti dei buoni risultati. Il caso eclatante che abbiamo presentato è un glioblastoma il quale a distanza di 7 anni non solo in perfetta salute ma ha attività lavorativa e gli accertamenti che se è risonanza magnetica che si appetta non mettono in evidenza la presenza di tumori, altri sono astrocitomi anaplastici. Quello che è importante è indicare, richiamare l'attenzione sulle linee di ricerca che sarebbe opportuno seguire. Abbiamo inserito praticamente, o cerco di richiamare l'attenzione dei colleghi, degli oncologi, dei ricercatori su aspetti ancora sottovalutati. Il più importante fu messo in evidenza dalla professora Itra, il presidente onorario della nostra fondazione, il quale ha individuato una omologia di geni tra il DNA delle cellule batteriche e il DNA delle cellule tumorali. Praticamente le cellule tumorali utilizzano sistemi di difesa ereditati dalle cellule batteriche, dagli eucarioti, li hanno portati ad altissima efficienza, sono ancora sottovalutati e rappresentano l'aspetto più insidioso, più difficile da curare della patologia neoplastica, della biologia neoplastica. Tanti casi rispondono bene a terapia attuale, chemio, radio, ci possono essere riduzioni rilevanti del volume del tumore, però purtroppo sono esiti, sono risultati temporanei. Oggi non ci sono in tutta la letteratura mondiale casi clinici di tumore solidi, cioè non leucemie, stabilmente e completamente risolto dalla terapia medica del tumore. Il motivo è proprio questo, è la capacità mutagena della cellula tumorale, la capacità di superare qualsiasi blocco che noi possiamo porre al suo sviluppo. I meccanismi sono multipli, sono complessi, sono difficili da superare. Su questo punto va indirizzata la ricerca. Alcuni elementi della terapia di Bella, acido retinoico, retinoide in generale, vitamina E, D3, melatonina, agiscono esattamente su questo punto. È documentato e il professor Venture, che ha presentato una brillante relazione oggi, ha illustrato, approfondito questo tema. Queste sostanze hanno la capacità di agire direttamente sulle sequenze dei geni del DNA, con effetto antimutazione, con effetto stabilizzante. È un dato di fatto, non è contestabile. Basta conoscerlo o non conoscerlo. È documentato da un punto di vista biochimico e da un punto di vista molecolare. Quello che è fondamentale, ed è sempre più chiaro, è la necessità della precocità del trattamento. Perché questi meccanismi della cellula tumorale, oltre ad essere multipli, sono estremamente efficienti, estremamente complessi. Uno dei più studiati recentemente è una capacità doppia della cellula tumorale. Da una parte ripara il danno che noi procuriamo con chemio o con radio. Lo ripara. Per esempio, quante volte si fa una radioterapia? Si fa un intervento a seno, mastectomia, quadrante, poi si fa una radioterapia. Questa radioterapia più o meno funziona per otto mesi, massimo dieci mesi. Perché? Perché la maggior parte delle cellule tumorali, che ha ricevuto un danno ionizzante dalla radioterapia, poi ripara questo danno. Cioè, questo DNA scombinato dal cellula tumorale viene risistemato, viene rimesso a posto, viene restaurato mediante questi meccanismi. Per cui l'effetto, sì, è temporaneo. Infatti non c'è nessun tumore solido guarito solo da radioterapia. Come non c'è nessun tumore solido guarito solo da chemioterapia. Perché? Da questi meccanismi c'è il meccanismo del mismatch. Cosa vuol dire? Vuol dire che il cellulo tumorale crea una grande instabilità genomica, una raffica di mutazione. Tra queste si sceglie quello che le conviene di più. Fa una scelta di un percorso che le consente sempre delle maggiori capacità proliferative, invasive, di resistenza, di tossicità per l'ospite. Quindi è molto forte, ha una grande adattabilità? Grandissima e crescente, perché questo percorso è un percorso che segue un criterio esponenziale. Io ho fatto l'esempio durante la conferenza, è un esempio significativo di una cellula di melanoma che all'inizio è stata studiata a fondo, all'inizio ha espresso dei geni per mutazione. Questi geni si sono localizzati sulla superficie, sulla membrana citosolica e hanno mascherato questa cellula di melanoma, l'hanno mascherata rispetto agli attacchi delle cellule immunitarie. In un secondo tempo, continuando questo percorso, questa cellula di melanoma è riuscita a sviluppare dei geni che le hanno consentito tutta quanta una serie, la produzione di tutta una serie di molecole che lisano, spaccano, uccidano le cellule del nostro sistema immunitario. Come altro esempio significativo, avevano registrato un caso di estremi interessi in un glioblastoma, ripeto, sono tra i tumori più omicidiali, in medie 15 mesi di aspettativa di vita, con tutto, con intervento radiochemico. In questa situazione un prodotto sperimentale che esiste sull'angiogenesi aveva ottenuto un ottimo risultato di riduzione della massa tumorale. È stato temporaneo, dopo tre mesi, una ripresa avvalanga del tumore. Il paziente è mancato, è stato fatto un esame otoptico con un prelievo per esaminare queste cellule e vedere cos'era successo. Era successo che in questo percorso di mutazione, la cellula tumorale del glioblastoma, che progressivamente si spostano sempre più sulle staminali tumorali, sono sempre più aggressive, aveva assunto una capacità autocrina, cioè produceva lei gli ormoni, si produceva lei gli ormoni che le servivano e ha prodotto quantità industriali di prolattina, che è un ormone che ha una potentissima attività proliferativa, ancora sottovalutata ed è ripartita. Allora, i due cardini, i due aspetti fondamentali su cui richiamiamo l'attenzione, sono una mutabilità costituzionale, potremmo chiamare, una insita nel fenotipo neopastico, cioè una cellula per il fatto di essere tumorale, ha una sua mutabilità costituzionale, costitutiva, cioè fa sempre questo percorso di mutazione. Però c'è anche una mutabilità adattativa, questo viene dall'ultimo studio pubblicato da Nature in novembre, primo firmatario russo, è una dottoressa, uno studio vastissimo, hanno esaminato le sequenze dei geni, l'omologia dei geni, i meccanismi di queste mutazioni e studiando questo che cosa hanno visto? Che c'è una mutabilità adattativa, oltre a quella congenita. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste cellule tumorali, oltre a sviluppare in sé questa capacità di mutazione, hanno un sistema che consente di moltiplicare, di accelerare queste mutazioni come risposta a ogni attacco, adattativa, perché si adattano a ogni offesa, a ogni stress. Sono molto intelligenti, possiamo dire. Perfetto, questa mutabilità adattativa viene attivata dalla chemia, viene attivata dalla radio, per cui in queste condizioni quel periodo di remissione della malattia ovviamente è più breve e la ripresa è più aggressiva, perché è più aggressiva la ripresa? Perché in un soggetto debilitato dagli effetti tossici immunodepressivi della chemia, questi meccanismi della cellula tumorale cosa selezionano? Ceppi di cellula tumorale più aggressivi e più resistenti. Proprio per questa mutagenesi è stata studiata nel suo rapporto a parecchi esempi, sia di recupero rapido del DNA, dell'integrità del DNA, che fa parte di questa forma adattativa, sia di una produzione a velocità crescente, di espressione a velocità crescente, tutti quei geni che servono per mettere in crisi di tessuto per farsi strada, per andare dappertutto, avere mobilità e avere resistenza. Abbiamo insistito su questi dati, su questi elementi, su queste verità, perché abbiamo l'impressione che siano ancora gravemente sottovalutati, anche perché non vengono utilizzati quei prodotti, quei presidi che sono già disponibili, che hanno dimostrato di poter intervenire efficacemente. Io nel libro sulla prevenzione dei tumori, la scelta antitumore, ho insistito molto su questi punti, per quale motivo? Perché più si va avanti, più il tumore procede, più è difficile inceppagli questi sistemi di mutagenesi, di mutabilità. Io riesco ad avere successo proporzionalmente alla precocità del trattamento. Mi viene fuori una considerazione, potremmo chiamare filosofica, religiosa, come volete voi, un concetto, per cui chi ha creato la vita, insieme con la creazione della vita, ha creato la difesa della vita, ha creato la conservazione della vita. Cioè i primi esseri viventi, i procarioti, erano già dotati di questo sistema di sopravvivenza. Perciò la nascita della vita ha coincido con la nascita del meccanismo di sopravvivenza. Questo meccanismo di sopravvivenza ha consentito ai procarioti di superare tutti gli eventi versi dei cambiamenti climatici e delle varie ere, torride e glaciali. Questo, essendo loro i progenitori nostri, li hanno trasferiti alla generazione successiva, agli eucarioti, questi li hanno trasferiti alle nostre cellule. Per cui questo sistema di sopravvivenza, nato insieme con la vita, rappresenta oggi il problema più grave della risoluzione del cancro. Questo è il problema. Questo è l'obiettivo, questa è la linea di ricerca, questi prodotti che abbiamo oggi dobbiamo valorizzare, li abbiamo già. Per suo richiamo di attenzione, questo congresso è stato finalizzato, iniziare a usare il più precocemente possibile questi elementi che corrono questa fronte, questa parte della fronte. Si parla, dottore, di multiterapia biologica. Il concetto biologico, come dicevo, è stato anticipato da mio padre al congresso di endocrinologia di Hong Kong, dell'88, in cui portò i primi studi sull'effetto antitumorale della melatonina. La relazione sua fu melatonina anticancer. Mio padre fece 70 relazioni a congressi mondiali pubblicate agli atti. In quel congresso c'è questo concetto, è il concetto ipocratico, primum non nocere, cioè la terapia non deve nuocere al paziente. Poi deve essere il più possibile adatta alle singole circostanze, al singolo individuo, alla singola malattia, cioè curare l'indibito, non la malattia in pratica. Usando di tutto quello che noi abbiamo a disposizione, che è logico, è scientifico e non tossico, la scelta di quei prodotti che possono interagire, che devono essere dotati di attività documentata antitumorale e possibilmente possono interagire se la maggior parte dei prodotti di terapia interagiscono a livello fattoriale. Hanno un effetto uno per, non hanno un effetto uno più. Allora, in queste condizioni, conoscendo l'estrema complessità e vitalità della cellula neoplastica, sapendo che è dotata di sistemi di sopravvivenza di questa efficienza, cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo attivare tutti i contrasti a maggior numero possibile di reazioni vitali che la cellula tumorale possiede oppure può mettere in attività, oppure può creare. Perciò fare un trattamento a 360 gradi, con una multiterapia, per cui il concetto di monoterapia e il concetto solo di chemioterapia è sicuramente superato, logicamente, razionalmente è un concetto superato, perché ci si può opporre alla complessità e alle enormi capacità vitali della cellula neoplastica solo intervenendo con il maggior numero possibile di molecole non tossiche e sinergiche fra di loro fattoriamente per contrastare il maggior numero possibile di reazioni vitali della cellula tumorale, incominciando col sottrarle energia, perché l'inibizione dell'ormone della crescita e della prolattina nei tumori ormonodipendenti, degli ormoni che non sono altro che trasferimento di energia alla cellula tumorale, la quale ha la possibilità di utilizzare dosaggi ampiamente superiore rispetto alla cellula sana. Il concetto di multiterapia si basa su questi tre postulati, togliere alla cellula tumorale energia nella massima misura possibile, come impedendole l'accesso alle fonti? Quali sono le fonti? Fonte primarie, ormoni della crescita e della prolattina. Fonte aggiuntiva, ormoni sessuali, maschile o femminile. Nello stesso momento in cui incomincia a realizzare questo, la mette in carenza di energia. L'energia le serve per vivere, per i suoi metabolismo e per proliferare e per muoversi. Se incomincia a diminuire la disponibilità energetica della cellula tumorale e ognuno degli elementi della terapia, con una via metabolica o un'altra, arrivano a questo, mi consentono di fare questo qua, una volta che ho fatto questo, devo impedire alla cellula tumorale di seguire questo percorso di mutazione. Devo intervenire su questo percorso che si svolge all'interno del DNA, dove sono le sequenze, perciò io ho un bersaglio preciso, il bersaglio della terapia è un bersaglio mirato, sono le sequenze dei geni del DNA, su quel punto dove devo agire, a livello del recettore di membrana, bloccare l'energia, inibire. A livello del DNA intervenire sul meccanismo di mutazione. Questo è favorito da prodotti che sono biologici, ma decompattano il DNA. Per accedere io devo avere un bersaglio accessibile, se non è accessibile lo devo rendere accessibile. Se ancora una volta sottolineiamo il concetto di multiterapia, devo intervenire con tutta una serie di prodotti, fra di loro interattivi, che mi consentano la massima concentrazione di fuoco, parlando in termini militari, sul bersaglio. Concentrarle la massima potenza antitumorale nel tempo e nello spazio, il più precocemente possibile. Ricordiamo quali sono? I prodotti che agiscono bloccando l'energia, alla cellula tumorale, somatostatina o l'analogo octrotide, che sono gli antitodi diretti dell'ormone della crescita e della prolatina. Cioè dei due ormoni basi ipofisari responsabili della protidosintesi. La sintesi proteica è la base della crescita. È documentatissimo. Basterebbe anche una considerazione semplice. I recettori dell'ormone della crescita individuati sono i recettori della membrana citosolica. I recettori nel citosolo ci sono dei recettori dei ribosomi e i recettori nucleari. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è nell'economia biologica una valenza enorme, perché addirittura mi copre l'intera cellula nei suoi punti critici vitali e mi regola la protidosintesi. Addirittura in modo della crescita mi favorisce la permeabilità della membrana cellulare e gli amminoacidi. Con gli amminoacidi si fanno le proteine. C'è tutta una cascata di fenomeni che poi sono finalizzati alla costruzione di proteine, alla costruzione della vita organizzata. Con questi inibitori dell'ormone della crescita, dell'inibitore della proteina, agisco sul patrimonio energetico. A parte anche inibitori degli ormoni sessuali nei tumori che hanno ormonodipendenti. Oltre a questo, devo agire sul DNA direttamente. Cosa abbiamo oggi a disposizione? Per agire i tre retinoidi. Sono nel libro della prevenzione, sono spiegati dalla formula chimica, il meccanismo d'azione all'interazione. E' spiegato anche come devo fare per farli lavorare, per renderli attivi nel maggior tempo possibile, per farli degradare il più lentamente possibile, per farli ossidare il più lentamente possibile. Questo spiega un rapporto di 501 con la vitamina E che li avvolge e ne impedisce la degradazione, ne impedisce l'ossidazione. Questi dove agiscono? Sulle sequenze del DNA, responsabili della mutazione. Da questo l'asse della terapia del tumore si deve spostare sempre di più sulla prevenzione. Perché? Perché se io lo sposto sulla prevenzione ho le più alte probabilità di bloccare il tumore nella sua crescita, nella sua insorgenza, sui meccanismi di insorgenza, lì ho il massimo di probabilità. Perché vado a creare una condizione nei punti strategici della vita, nei punti di regolazione della biologia, una situazione fisiologica, una situazione di stabilità, una situazione che impedisce quelle deviazioni che un po' per volta mi portano a un'alterazione completa degli equilibri. Ecco, questi meccanismi, come lei ha spiegato, agiscono sia sui tumori solidi che non solidi? Sì. Tumori solidi ovviamente hanno un'immensa varietà, però sono accomunati dal denominatore comune. Hanno una crescita fuori controllo e sono capaci di utilizzare nell'ordine di tempo quantità superiori di energia rispetto alle altre cellule e sviluppano gradualmente tutta una serie di capacità, tutta una serie di preaglative di probabilità. I tumori non solidi, parliamo di leusemie. Leusemie per ora come fondazione, essendo patologie complesse soprattutto per un fatto che se vengono in fase acuta necessitano di assistenza ospedaliera. Assistenza ospedaliera può voler dire e fare fronte alla fragilità, per cui sono pazienti che si ammalano molto facilmente a situazioni gravi come anemie molto gravi, per cui necessitano un supporto ospedaliero. Mio padre si è preso la responsabilità di curare casi gravi, però mio padre aveva un'esperienza clinica unica, veniva da una grande scuola clinica. Nessuno di noi su questo punto può avere, può paragonarsi, può avere capacità. Quello che posso fare io, possiamo fare noi, applicare i concetti che lui ci ha insegnato, applicare le strategie, applicare la cura. Però a quel livello ci vuole la capacità clinica, ci vuole un clinico che abbia proprio questa capacità di modulare e così via. Nelle leusemie, se si interviene in una situazione che non necessita di assistenza, in maniera particolare quelle linfatiche, tra quelle linfatiche e quelle croniche, lì si ottengono con la terapia dei risultati particolarmente brillanti, anche in tempi relativamente brevi, anche in situazioni in cui le terapie tradizionali erano fallite. I casi sono pubblicati. Se si va sulla maggiore banca d'arte biomedica, Papamed, ci sono 55 casi di linfomi, sono malattie linfopoliferative. Di questi diversi, erano pazienti in situazioni critiche dopo il fallimento di trapianti. Un linfoma in cui fallì i trapianti è in una situazione molto critica. Ha una prognosi che incomincia a essere molto seria, molto difficile. Allora, la terapia, in questi casi, che sono gli unici a livello di terapie che possiamo trattare, dà delle risposte sicuramente brillanti. In queste, in particolare le malattie linfopoliferative, un ruolo speciale e una particolare potenza ce l'ha la melatonina. melatonina pura biologica, legame ad idrogeno con la denosina, ha un'efficacia particolare nella regolazione della crasematica della dinamica midollare della formula. Per cui la formula con rapporto tra linfociti e neutrofili, dalla melatonina viene spostata sui neutrofili, a danno dei linfociti. Per cui c'è una particolare efficacia nelle malattie linfopoliferative. In un unico caso siamo riusciti a fare, in ambiente protetto, una donna ricoverata, 4 flebo al giorno, da 250 mg di melatonina all'uno, diluiti in 500 ml di fisiologica, nell'arco delle giornate, in 11 giorni, il caso è pubblicato, si trova sulle banche dati, c'è stata la remissione totale e stabile di un linfosarcoma recidivo in condizioni gravemente critiche. Caso unico perché non abbiamo la possibilità, non abbiamo collaborazione ospedaliera. 1000 mg di melatonina al giorno non hanno dato nessun fastidio, però per motivi ovvi necessitano di assistenza ospedaliera. Per cui le potenzialità della cura sarebbero moltiplicate se avessimo quella collaborazione che è sempre mancata e perlomeno una minore ostilità o un minore contrasto a tutti i livelli di quelli che potrebbero non solo aiutarsi, ma non aiutare tanto noi, quanto aiutare i pazienti e fare un servizio alla verità, fare un servizio ai postulati fondamentali della professione medica. Una cellula sana e quindi non in fase di mutazione presuppone una buona membrana la cui struttura è formata da un doppio strato di fosfolipidi e funge da barriera semipermeabile che separa l'interno della cellula dal mondo esterno. Per conoscere l'integrità della membrana serve un'analisi lipodomica di membrana cellulare che esamina la composizione degli acidi grassi e lipidi nell'organismo, scegliendo il compartimento più significativo, la membrana cellulare, per valutare le trasformazioni metaboliche e nutrizionali in modo personalizzato. Sono in compagnia della dottoressa Carla Ferreri, che è primo ricercatore del CNR di Bologna. Lei ha parlato di lipidomica di membrana. Sappiamo che appunto la membrana è fondamentale nella cellula perché è l'involucro esterno che consente il passaggio dall'interno all'esterno della cellula stessa. Lipidomica di membrana che cosa significa? Che cosa ha studiato nelle sue ricerche? Lipidomica, come dice la parola, indica il contenuto di grassi. La membrana, non tutti forse lo sanno, ma è fatta di grassi, i grassi che magari noi evitiamo di mangiare. In realtà se non mangiamo grassi la membrana cellulare non si può formare. Quindi la membrana cellulare è l'involucro, come correttamente ha detto, che è indispensabile alla cellula. Quindi noi non possiamo vivere senza le membrane e quindi senza le cellule. E le nostre ricerche si indirizzano a conoscere la composizione di grassi della membrana, lipidomica di membrana, nel soggetto sano e le differenze che questa lipidomica di membrana può avere nelle varie malattie. Ecco, in particolare appunto stiamo parlando del cancro, la malattia del secolo. Sempre molti ricercatori appunto si stanno compiendo degli studi per vedere come riuscire appunto a guarire dal cancro. Si stanno facendo tantissimi passi avanti. Appunto noi abbiamo qui il metodo di Bella che sta prendendo sempre più piede. In base appunto alla sua ricerca che cosa è emerso dal punto di vista appunto di questa malattia davvero terribile. Ma sicuramente, e tutti questo credo possano capirlo, il tumore ha bisogno di fare cellule. Più cellule fa più invade e il numero di cellule che fa è proporzionale al numero di membrane che riesce a comporre. Quindi i grassi che noi mangiamo o che facciamo all'interno del nostro corpo svolgono un ruolo fondamentale nella proliferazione delle cellule tumorali. Quindi oggi con la ricerca attuale e le conoscenze in lipidomica si può dire con certezza che esiste un profilo di membrana che è un profilo che favorisce la diffusione tumorale. Quindi entra in gioco lo stile di vita fondamentale dell'alimentazione. Certo. Studi epidemiologici hanno già chiarito che la nutrizione, l'alimentazione abituale favorisce l'incidenza di cancro. Quindi noi dobbiamo assolutamente, nel paziente oncologico ancora di più perché già ce l'ha il cancro, dire come medici, come nutrizionisti tu cosa mangi e soprattutto verificare con il profilo lipidomico cosa è andato a comporre la membrana della cellula se per caso quella persona stia commettendo proprio l'errore classico, ovvero mettere i grassi nella membrana che facilitano la proliferazione. Ecco, l'alimentazione viene considerata una sorta di terapia integrata ma in realtà mi pare di capire che è di assoluta importanza riuscire ad utilizzare appunto il paziente oncologico verso una educazione alimentare corretta. Proprio mostravo in sala l'ultimo perspective di Nature Cancer del 2019 uscito a novembre dove c'è una bellissima immagine dove si vede che la dieta è proprio orienta la risposta tumorale e anche orienta la sensibilità di quella cellula tumorale alla terapia farmacologica o addirittura sinergizza con la terapia farmacologica. Quindi penso se è una review quindi significa che i dati sono stati ampiamente raccolti negli ultimi 30 anni come è vero e quindi noi siamo proprio sulla frontiera di questa medicina molecolare che è di semplice esecuzione per cui non dovrebbe trovare una forte resistenza a penetrare nella abitudinarietà della valutazione clinica del paziente. Quindi ovviamente noi non ci rivolgiamo al paziente, l'analisi lipidomica deve essere prescritta dal medico, deve essere capita dal medico e deve essere associata alle terapie che il medico vuole fare. Quindi è un'analisi che si può fare nel momento in cui si è malati oppure può essere anche così un'analisi che può essere fatta nel soggetto sano? Sono due tipi diversi di orientamento. Abbiamo sia la parte prevenzione e quella spesso si fa in farmacia direttamente come autoanalisi oppure la parte clinico diagnostica che quella si fa nello studio del medico o del nutrizionista. E in che cosa consiste? Un piccolo prelievo di sangue che si può fare anche da dito come autoanalisi, sono 20 gocce, purtroppo non si può fare sul plasma perché nel plasma non ci sono cellule per definizione, non si può fare sulla goccia secca di sangue perché la goccia secca contiene sia il plasma che le cellule, invece si deve fare su un campione di sangue intero in EDTA come anticoagulante, questo per un dettaglio tecnico ma importante. E noi in Italia abbiamo l'eccellenza di questa analisi perché proprio nei laboratori di Lipi Nutragen, che è l'azienda che ho fondato come ricercatore col beneplacito del CNR, quindi del CDA del CNR, in questa società è stato sviluppato l'unico robot al mondo che fa la selezione del globulo rosso maturo, che è la nostra cellula informativa perché circolando nel nostro organismo per più di tre mesi raccoglie quelle preziosissime informazioni, quindi è un segnale di allarme quando esiste una proliferazione in qualche punto del nostro organismo e ci avverte, guarda, che quel tipo di grasso si sta formando in quell'organismo per aiutare la proliferazione tumorale. Certo. Allora, un'ultimissima domanda, dottoressa, vorrei riuscire a capire se questi mutamenti di membrana vengono accelerati con l'avanzare dell'età. L'avanzare dell'età porta la fragilità soprattutto nel cambio ormonale, per esempio nella menopausa. Sicuramente nella persona fortemente anziana il tumore non progredisce rapidamente perché appunto è tutto rallentato persino il tumore, diciamo. Però c'è un'età critica proprio tra i 55 e i 65 anni che poi fra l'altro dalle nostre valutazioni su popolazione è proprio l'età in cui la persona si interessa di più alla salute. Quindi paradossalmente potremmo veramente migliorare se quella fascia di età si inizia a indirizzare a un percorso di prevenzione attiva. Grazie, dottoressa. Grazie a lei. Grazie. Grazie. Sono in compagnia del dottor Paolo Lissoni che è oncologo ed endocrinologo. Stavamo parlando a telecamere spente del suo intervento che ho seguito con molta attenzione. In particolare stavamo appunto accennando alla melatonina, questo ormone che è sempre stato nel passato così bistrattato e che viene prodotto dalla ghiandola pineale che in realtà invece ha un ruolo davvero fondamentale per la nostra salute. Ecco, la ghiandola pineale stranamente è stata oggetto più di intuizione filosofica. Tutti sanno che Cartesio, prima che ne parla con una certa sistematicità nel 1600, purtroppo è stata interpretata in modo filosofico, in modo errato, nel senso che il famoso dualismo cartesiano non esiste perché Cartesio vedeva l'essere umano come un'unione, una parte misurabile, estensa e una parte interiore, il cogito, e a unirle queste fosse la pineale. Da qui non l'idea che tanti si sono fatti che materialmente l'anima fosse nella pineale, ma la funzione integrativa corpo-coscienza era realizzata 500 anni dopo e si viene a dimostrare che senza questa ghiandola il corpo non muore subito. Ecco la differenza con le altre ghiandole endocrine. Venivano studiate in che modo? Quando l'animale veniva privato della ghiandola, in genere in gran parte dei casi l'animale moriva in pochi giorni. Nella pineale non c'era questo effetto plateale, ma in realtà andando a vedere la vita biologica dell'essere vivente, lentamente si aveva la scomparsa dei ritmi biologici. Cosa significa? Sia che l'organismo singolo si in qualche modo sgancia dai ritmi, soprattutto luce e buio, e questo rende la persona non suscettibile di uno stato di salute. La melatonina, che ha già sconvolto tutto l'impianto della scienza d'Occidente, in realtà è uno dei quattro indoli prodotti dalla ghiandola pineale, non solo, questa ghiandola produce tutta una serie di composti chimici che si chiamano le beta-carbonine, derivate dagli indoli, e quali regolano perfettamente tutti gli stati di coscienza. Il problema è che ancora oggi gli stessi filosofi parlano della coscienza senza rendersi conto che come minimo è diversa la coscienza dell'ammalato e diversa la coscienza dello stato di salute. Quando siamo nello stato di salute non riusciamo a distinguere il corpo dalla coscienza, siamo un tutt'uno, quando siamo nello stato di malattia percepiamo il nostro corpo come oggettivato rispetto a noi fino a quasi diventare responsivo. Ecco, questo rapporto non è automatico, è regolato da questa ghiandola, l'unica che è in grado di informarci sulla condizione energetica universale, perché l'occhio vede ma ci dà informazioni cognitive, vedo che è luce e devo andare a lavorare, mi alzo. La pineale non dà informazioni cognitive ma biologiche. C'è luce, quindi il mio corpo, il mio sistema immunitario, il mio sistema endocrino e cardiovascolare deve adattarsi compatibilmente con le leggi universali. Allora, innanzitutto le chiedo che cosa sono le citochine e poi, in seconda domanda, che ruolo ha appunto questa ghiandola pineale nella regolazione appunto di queste citochine? Ecco, quella delle citochine è stata senza dubbio una delle più grandi scoperte insieme a quella genetica, la genetica piace, le citochine molto meno, ma attorno agli anni, fino agli anni 70, viene scoperto che il sistema immunitario, oltre a comunicare cellula a cellula, come in laboratorio, produceva sostanze, come se ogni cellula immunitaria fosse una piccola ghiandola endocrina, in grado di avere effetti non solo immunologici, ma addirittura endocrini, neuroendocrini, neuropsichici, cardiovascolari. Quindi saltava, diciamo, tutto quello schematismo schizoide della attuale scienza medica, tale per cui il sistema endocrino fa effetti endocrini, il sistema immunitario effetti immuni. Ecco, queste citochine sono oltre 40, sono quelle che regolano tutta la fisiopatologia umana, automaticamente tutta la fisiopatologia medica umana andrebbe riscritta in termini di alterazione delle citochine. sono già note, ma c'è il grande problema dello squallamento sempre ingravescente fra ciò che la scienza già sa e ciò che è la gestione sociale della scienza. Sta di fatto che quasi nessun reparto in Italia dosa queste cose, quindi ciò che potrebbe essere rientrare nella diagnostica di una medicina futura, che fra l'altro l'Italia, specie l'Unione d'Italia, è oggettivamente la prima al mondo, la sofferenza qual è? Che nessuna forza sociale o politica sembra al momento occuparsene. Ora, queste citochine, anche da parte dei rari immunologi che le conoscono bene, a loro volta cadono nell'errore di immaginarle come un sistema autonomo, quando invece questo sistema, il cosiddetto network citochinico, risponde a un controllo centrale che trova una modulazione psico-neuroendocrina, soprattutto nelle due sfere cerebrali, nel sistema opioide secernente a sostanze tipo opioidi e nel sistema cannabinergico secernente a sostanze simili, diciamo cannabinoidi. La cannabinoide integra questa funzionalità neurochimica in rapporto alle leggi universali e da questo deriva lo stato di salute che fra l'altro 10.000 anni fa, Zaratustra, faceva già coincidere con lo stato di sanità. Ecco, però appunto, come diceva lei, la ghiandola pineale è soggetta ad invecchiamento come tutto l'organismo e quindi nel momento in cui l'avanzare dell'età è evidente, insomma, la ghiandola pineale comincia a non funzionare in modo regolare come prima. Ecco, però si pensava che ciò avvenisse inesorabilmente in tutti. Un rarissimo studio nostro di tanti anni fa, ma stranamente nessuno mi è sembrato a tratto, in realtà stabilisce che il calo della funzione, diciamo melatonina immaginando che sia pineale, non è sì l'avonimo, però eleggendo l'unico ormone dosabile, potenzialmente dosabile che è la melatonina, avviene che non è in tutti. Quindi automaticamente a livello anche di politica sanitaria, beato quel partito, probabilmente non sarà quello che io chiamo il movimento degli sgombri, cioè un movimento che faccia sgomberare tutte le falsità, uno scrini di massa, dosaggio della melatonina urinaria molto più comodo che su sangue, dai 60 anni, 55 in poi, certamente il comparire di un progressivo calo della pediale, che significa perdita del ritmo luce-buio, cioè incapacità a produrre più melatonina nelle ore di oscurità, nell'animale si sa da decenni, è segno di predisposizione a tutte le malattie, carri mascolari e tumorali. Quindi è utile la somministrazione di melatonina? Prima ci vuole questo screening di massa che discrimini due popolazioni, quindi nessuno può dire, ecco il problema qual è? Diciamo, il problema è che il cittadino che dice voglio sapere la funzionalità della mia ghiandola pineale, in teoria di fatto non gli è concesso di saperlo. E come potrebbe saperlo? In teoria i laboratori si dovrebbero attivare, gli ospedali a dosare il ritmo della melatonina, è un dosaggio di una banalità immensa, su urine, l'ammalato porta i campioni di urine di giorno o di notte, per lieve notturno deve avere il catabolita della melatonina, che è la 6, sul patoxi melatonina, alta di almeno tre volte. Se ciò non c'è, la persona prima o poi si ammala, è quello che noi chiamiamo test predittivi della patologia. Dire a un ammalato con 300 di colesterolo che ha il colesterolo alto, non è una grande illuminazione medica. Bisogna accogliere quegli esami presenti i quali la persona è più soggetta, uno di questi è certamente la scomparsa del ritmo notturno di melatonina. Professore Ventura, parliamo di medicina rigenerativa, in particolare voi studiate come le cellule staminali avviano questo processo di rigenerazione in cellula matura sana, è così? Sì, diciamo che la medicina rigenerativa è proprio una branca abbastanza recente della medicina che cerca di utilizzare tutte le strategie possibili per poter far leva sulla capacità delle cellule staminali di riparare o rigenerare tessuti danneggiati, non altrimenti recuperabili, nemmeno con i più moderni presidi farmacologici o chirurgici. Tutte le cellule staminali cosiddette adulte si trovano in ogni tessuto del corpo umano, quindi ogni tessuto del corpo umano ha una capacità intrinseca di autoriparazione, dal graffio sulla pelle alla frattura di un osso o un'epatite, diciamo che ci sono tutte le evidenze cliniche ma anche nel vissuto di tante persone in cui si fa esperienza di questa capacità di autoriparazione che è intrinseca. Quando il danno o la degenerazione di un tessuto supera le capacità di autoriparazione ecco che si cerca di parlare o di sussurrare a queste cellule staminali in maniera da potenziarne ulteriormente la capacità di riparazione, di rigenerazione. Che cosa significa parlare o sussurrare a queste cellule staminali? È una bella domanda. Possiamo avere tanti approcci che non si escludono a vicenda. Un approccio sicuramente abbastanza convenzionale è quello di usare molecole chimiche che possono in qualche modo guidare la capacità di queste cellule di riparare un tessuto. Queste molecole chimiche possono essere di varia natura, possono essere piccole proteine, piccoli peptidi, cosiddetti fattori di crescita, possono essere citochine, possono essere anche dei lipidi, possono essere dei cosiddetti microRNA, cioè delle molecole particolari che vanno a modulare l'espressione di alcuni geni o la traduzione dell'RNA messaggero in proteina. Quindi diciamo un approccio che sicuramente può essere di tipo chimico e che può sfruttare sia molecole naturali che nuove molecole di sintesi. Accanto a questa strategia ce n'è un'altra che sta emergendo in tempi più recenti e che nasce dalla constatazione crescente della capacità delle cellule di esprimere segnali fisici. Quindi le nostre cellule hanno al loro interno delle strutture che si ritenevano abbastanza statiche in un tempo, ma oggi sappiamo che sono altamente dinamiche, sono i microtubuli, i microfilamenti, come se componesse una sorta di trama tessile al loro interno. Sono presenti anche all'interno del nucleo dove in uno spazio piuttosto limitato di pochi millesimi di millimetro abbiamo in realtà una molecola molto lunga, il DNA è lungo circa due metri e oggi sappiamo che dall'architettura, dalla parte del DNA che non codifica, una volta si parlava di DNA spazzatura. Questa è in realtà una componente dinamica che in qualche modo dice ai geni, alla parte codificante, come devono lavorare in un concerto, come se fosse una sinfonia. quindi tutti questi aspetti pian piano hanno portato, come dicevo un attimo fa, a vedere sempre di più la biologia cellulare con gli occhi della fisica. Direi una visione rivoluzionaria? È una visione rivoluzionaria che sta prendendo molto piede al punto che oggi per esempio si usano delle onde d'urto, shockwaves, sono delle onde particolarmente focalizzate, non pensiamo a un pugno, ma a qualcosa di molto fine, di molto delicato che può riprogrammare cellule staminali in vari tessuti del corpo umano in maniera assolutamente non invasiva, proprio sfruttando il potere diffusivo di un'onda meccanica. Un altro esempio è dato dall'utilizzo di campi elettromagnetici di varia natura, opportunamente convogliati verso i tessuti che si vogliono appunto trattare e anche con questo tipo di radiazione, di energia fisica, si può andare a riprogrammare, noi usiamo questa parola, cioè rendere la biologia delle cellule staminali più consona a un tipo di sviluppo che favorisca la rigenerazione di un tessuto danneggiato. Accanto alla radiazione elettromagnetica, intesa come campo elettromagnetico di forza, noi dobbiamo considerare anche quella che è la luce e qui nasce un campo molto ampio in via di sviluppo molto recente che è la cosiddetta fotobiomodulazione. Diciamo che dalla azione combinata delle oscillazioni meccaniche di varia natura, acustiche o subsoniche, di campi elettromagnetici e di luce, si sta sviluppando un approccio di medicina rigenerativa molto particolare perché basandosi sulla riprogrammazione in sito delle staminali che abbiamo già presenti in tutti i tessuti, va ad evitare un approccio basato sul trappianto di cellule e tessuti, almeno in prima istanza. Quindi questo è assolutamente un salto avanti di notevole rilievo, secondo me, perché si tratta di una medicina innanzitutto di basso costo, bassissimo costo, una medicina assolutamente non invasiva, personalizzabile sulle esigenze del paziente, ma nello stesso tempo attuabile su una scala molto vasta, molto ampia. Quindi, così, in modo forse un po' troppo semplicistico, si tratta di guidare queste cellule ad una sorta di autoriparazione, eliminando così quella che può essere la tossicità di alcune terapie che sono in atto, ora se le applichiamo nel campo medico? Sì, diciamo che più che altro rendere più robusto un processo intrinseco di autoriparazione. In tutto questo ci sta anche chiaramente tutta la problematica legata ai tumori. Noi sappiamo che un evento chiaramente critico nella vita di pazienti che soffrono di patologie tumorali è la diffusione a distanza della malattia rispetto al sito primario, la cosiddetta metastasi. E oggi buona parte della letteratura in ambito internazionale concorda nel ritenere che la metastasi sia proprio operata dalla diffusione di cellule staminali tumorali, cioè di cellule che hanno mantenuto la capacità tipica delle cellule staminali di moltiplicarsi e di migrare, cioè di diffondere a distanza, ma hanno perso la capacità di differenziarsi, cioè di trasformarsi in una cellula utile per riparare un tessuto danneggiato. Tutte le volte che abbiamo un danno, per esempio un danno d'organo, tipo un infarto miocardico, oppure uno stroco, un ictus, ma qualunque altro danno, anche una frattura ossea importante, noi assistiamo a una migrazione di cellule staminali da alcuni siti, tipo il midollo osseo, oggi si sa anche il tessuto adiposo, nel torrente circolatorio. Queste cellule sono attratte verso la sede del danno da tutta una serie di molecole di citochine che aumentano nella sede del danno e segnalano la presenza di un danno. Quindi in questa fase noi che cosa abbiamo? Abbiamo il distacco delle cellule staminali dalla loro casa, dal luogo in cui si trovano, noi chiamiamo nicchia, vascolo stromale, abbiamo la loro invasione nel torrente circolatorio, addirittura queste cellule producono nuovi vasi come per crearsi delle strade ulteriori per raggiungere la sede del danno in maniera più rapida e più efficiente. Una volta raggiunto l'organo danneggiato, queste cellule staminali normalmente invadono l'organo, proliferano per essere intante e fin qui è come se avessi descritto una metastasi tumorale. La differenza più importante è che a un certo punto queste cellule smettono di moltiplicarsi all'interno di un tessuto e si trasformano, si differenziano nel tipo di cellula che viene persa in quel particolare danno e quindi riparano il danno. Se quest'ultima parte viene meno, per motivi che ancora non conosciamo in dettaglio, ecco che le cellule hanno semplicemente invaso un organo a distanza e possono andare in altri organi, perché nella vita di tutti i giorni noi siamo soggetti ad alterazioni di organi e tessuti che vengono normalmente riparati, sia per la capacità di moltiplicazione delle cellule già adulte, delle cellule somatiche, ma anche proprio per l'azione delle staminali tessuto residenti. Quindi un approccio sicuramente diverso da quello chemioterapico, dall'uso della radioterapia, può essere non tanto quello di voler distruggere a tutti i costi queste cellule staminali tumorali che tra l'altro sono dotate di una elevata capacità proliferativa e resistono molto ai chemioterapici e sono anche abbastanza resistenti a un meccanismo che chiamiamo apoptosi, cioè di morte cellulare programmata, e che è un meccanismo che viene spesso attuato dalle cellule quando, per così dire, loro comprendono di non essere in grado di attuare un programma corretto. Teniamo presente che una parte considerevole dei meccanismi dell'embreogenesi è proprio l'apoptosi, cioè la morte cellulare programmata. Queste cellule staminali tumorali, ritenute dai più madri delle metastasi tumorali, sono particolarmente resistenti all'apoptosi. Quindi una strategia potrebbe essere quella di ricondurle alla loro missione originaria, che è quella di differenziarsi e riparare un danno. Quindi proprio conoscendo le dinamiche molecolari e oggi diciamo anche fisiche, in base a quello che ho detto prima, di come le cellule staminali normali riescono a operare il loro progetto di riparazione o rigenerazione di un tessuto, è proprio partendo da questo lavoro di ricerca di base che ritengo si potranno anche capire tutti i meccanismi che stanno alla base della perdita di questa capacità e intervenire per riprogrammare queste cellule. Noi abbiamo in passato anche visto come, ad esempio, riprogrammare cellule di feocromoblastoma, che sono cellule tumorali in vitro, attraverso l'uso di campi radioelettrici opportunamente convogliati, possa trasformare queste cellule nel tipo di cellula di partenza, cioè un neurone dopaminergico che produce dopamina. è ovviamente uno studio in vitro ancora, ma questo ci fa capire che è possibile una riprogrammazione inversa di queste cellule e penso che la ricerca futura dovrebbe molto orientarsi in questo senso perché potrebbe aprire speranze veramente importanti per i malati. Benissimo, grazie mille, professor Ventura. Grazie a te. Il metodo di Bella, applicato per la cura del tumore al cervello, che solitamente ha una prognosi in fausta, ha dato risultati molto incoraggianti, portando in alcuni casi anche alla remissione totale della patologia. La dottoressa Elena Costanzo è una biologa dell'equip del dottore di Bella. Lei insieme ai colleghi ha recentemente effettuato uno studio preliminare su quelli che sono appunto i tumori cerebrali, che tra l'altro di solito hanno purtroppo un epilogo in fausto. Una prognosi molto in fausta. Esatto. Che cosa è emerso da questo studio, dottoressa? Allora, ripeto che è uno studio molto preliminare. Abbiamo preso in considerazione soprattutto otto casi, ce ne sono altri, ma noi ne abbiamo considerati otto, di tumori cerebrali a diversa gravità, diciamo, diverso grado di intensità. Sono tutte persone che avevano iniziato i classici protocolli ospedalieri di guarigione. Quindi quello che è sempre previsto per un tumore cerebrale è l'operazione chirurgica totale o parziale, chemioterapia e radioterapia. Tutti questi pazienti hanno effettuato questi protocolli, subendo anche delle recidive in molti casi, e subendo anche una qualità della vita abbastanza peggiorativa rispetto alla situazione iniziale, nel senso che comunque la chemioterapia e la radioterapia danno pesanti effetti collaterali, oltre a quelli che causano il tumore. Dopo innumerevoli recidive o trattamenti chemioterapici, hanno deciso, in anni diversi, di iniziare questo protocollo di Bella. I primi casi che abbiamo sono del 2012. Abbiamo preso in considerazione soprattutto tumori anaplastici, quindi di terzo grado, e un caso di glioblastoma, quindi un quarto grado, il più aggressivo. Per quello che ci dice la letteratura scientifica dei casi esaminati finora, per i tumori anaplastici la speranza di vita media è di circa tre anni e mezzo. Per un glioblastoma si va dai 15 ai 24 mesi, quindi sicuramente molto bassa. I pazienti trattati con il protocollo di Bella, abbiamo pazienti dal 2012, 2013, 2014, fino al 2016, che ancora ad oggi, tramite le ultime risonanze magnetiche, o PET che hanno fatto e ci sono state inviate, dimostrano totale assenza di malattie in alcuni casi, o remissione totale, quindi in alcuni casi, o blocco della progressione. E già quella è comunque un grandissimo risultato. Se si riesce a bloccare un tumore e tenerlo fermo per sei anni, è un grandissimo risultato. Quindi un protocollo di Bella è chiaramente modulato? Modulato sul paziente, ci sono dei prodotti prescritti che ovviamente sono validi per tutti, il protocollo si divide in un modulo fisso, in un modulo variabile, appunto il modulo variabile viene adattato alla persona, al paziente, al suo stato psicofisico, a ulteriori patologie di cui può soffrire. I componenti principali sono i retinoidi, la melatonina, la somatostatina, questi sono prodotti che fanno tutti e sono fondamentali. Il resto viene adattato alla situazione del paziente. I primi risultati quando si ottengono? Allora, la terapia sicuramente va fatta per tempo, nel senso che non si possono pretendere dei buoni risultati dopo un mese di terapia. Sono terapie che vanno fatte per molto tempo, anche lì è variabile il tempo, dipende dallo stato psicofisico del paziente, quindi se si tratta di una persona giovane, le probabilità di una guarigione in tempi brevi sono più alte. Si parla comunque di mesi, quantomeno di mesi se non di anni, quello sì. Come proseguirete con i vostri studi ora? Includeremo sicuramente altri casi, perché ce ne sono tanti, purtroppo ce ne sono tanti, sono anche in aumento. Amplieremo anche i dati che prenderemo in considerazione, perché al momento abbiamo calcolato soltanto la sopravvivenza media, però ci sono tanti altri dati che vanno calcolati. Ci sono anche pazienti che magari si rivolgono direttamente a noi senza passare dal protocollo ospedaliero e anche quello sarà da valutare, sarà interessante valutare la differenza tra chi ha iniziato un percorso ospedaliero e poi è passato al protocollo di Bella e chi invece decide di iniziare direttamente con quello. Quindi anche fare un confronto su questo sarà interessante. Quindi uno studio, seppur preliminare, soddisfacente. Assolutamente soddisfacente. Dottore Di Bella, il convegno di oggi è stato davvero la dimostrazione di come il metodo Di Bella stia prendendo sempre più piede e che il lavoro della fondazione in questi anni ha dato davvero dei frutti molto importanti, soprattutto la dimostrazione clinico e scientifica è innegabile. Abbiamo sentito anche dei casi clinici, ci sono state delle testimonianze oggi che appunto rendono onore a questo metodo. Quale sarà il futuro del metodo Di Bella e della fondazione Di Bella? Dunque il futuro dipende dalla politica, non dipende dall'essenza. Dipende dagli equilibri politici, dalle istituzioni, non solo nazionali ma internazionali. dal percorso che prenderà un potere globale centralizzato e che impone delle scelte culturali o pseudo-culturali, scelte terapeutiche, scelte politiche, sistema che controlla l'informazione. Il problema in questo momento è grave, perché questi centri di potere, tra di loro collegati, organizzati e centralizzati, esercitano un controllo enorme su parecchie nazioni e pretendono di gestire in forma assoluta, manipolio praticamente, la ricerca scientifica, la salute e il farmaco. E lasciano sempre meno spazi alla libertà di ricerca e alla libertà di terapia. E ne approfitto per lanciare un appello alla gente per la gente si attivi il più possibile, perché il momento è grave, più di quanto non possono pensare. La situazione è grave, perché si va verso una forma di terrorismo mediatico. Se il medico è che osa fare una scelta terapeutica in base alle evidenze scientifiche, in base alla sua coscienza professionale, in base al protocollo di Helsinki sull'etica medica, in base alla medicina basata sull'evidenza codificata dal British Medical Journal, rischia sempre di più, perché non segue protocolli dei diktat istituzionali. Per cui il percorso che sta seguendo questo sistema politico globale, di cui abbiamo riscontrato in Italia, soprattutto in questo momento, è quella dell'imposizione coercitiva di scelte terapeutiche. Una medicina autoritaria che intimidisse il medico al punto tale che per la prima volta ci sono stati provvedimenti di estrema gravità contro medici, non perché avessero leso la vita o la salute dei pazienti, perché avevano espresso un parere contrario a quello del potere. Le radiazioni, per parere spesso contro i vaccini, sono un esempio, ma rappresentano un dato da considerare con estrema attenzione. Ormai tutta la legislazione si sta spostando in questo senso e a rendere sempre più difficile la vita del medico che non sottostà a determinate imposizioni. Medico che sceglie un tipo di terapia nell'esclusiva vantaggio e salute del paziente e seguendo i postulati storici, etici, morali di sempre, al punto tale che ormai anche la ricerca scientifica non è più libera. Le imposizioni e le sanzioni verso un ricercatore che anche a sue spese voglia intraprendere un percorso di ricerca senza il beneplacito del comitato etico sono gravissime. Se lavori in una struttura ha chiuso la sua carriera, può avere delle sanzioni anche pecuniari gravissime. Questo che cosa vuol dire? Siamo di fronte a un condizionamento, a un blocco della ricerca libera e della terapia basata unicamente su principi etici scientifici che non debba sottostare in posizione di ordine politico o di commissioni formulate da linee guida coercitive formulate da burocrati eletti da politici i quali a loro volta sono eletti da sistemi di potere. La terapia di Bella crea tante ostilità a tanti nemici così pieni di rabbia, così pieni di rigore proprio per questo motivo, perché è una rivendicazione documentata dal successo, documento razionale, basata sulle evidenze scientifiche e con risconti clinici che va a scardinare questo progetto infernale, questo progetto infernale, perché rinunciare alla verità, rinunciare a quello che posso fare, costringersi un medico a non operare le scelte che sarebbero opportuni in quel momento, forse è uno degli aspetti più gravi della nostra società, dell'oscuramento delle coscienze, dell'eclissi dei valori della nostra civiltà, del decadimento della civiltà, uno degli aspetti più gravi è una civiltà che ormai chiamiamo la civiltà e in pratica è impermeabile la verità, rifiuta la verità. E la maggior vittima in tutto questo meccanismo alla fine è il malato oncologico. Il malato oncologico, ma il malato in generale, il malato in generale è la concezione del medico della libertà del medico, ma libertà, non libertà gratuita, libertà seguendo sempre quelle che sono le basi razionali scientifiche della terapia, per cui strettamente vincolata, strettamente basata sul dato scientifico, strettamente basata sull'etica. Benissimo, dunque grazie al dottore Di Bella, grazie per questa bella esperienza e per aver avuto l'opportunità appunto di averla qui con me. Grazie a voi, grazie a Telecolor. Grazie a tutti.